L'uomo è accusato di incendio boschivo reato previsto dal codice penale. Nei giorni scorsi il fuoco ha distrutto parte della vegetazione nell'area di Cagiano e dei comuni limitrofi. Proprio durante alcuni controlli effettuati dai carabinieri della stazione forestale di Polla per verificare un incendio boschivo era stata segnalata la presenza di una persona con una divisa grigia. Nel corso di un controllo l'uomo alla guida di una vettura è stato fermato nelle campagne di Salvitelle. Visto il nervosismo manifestato dal conducente che indossava la divisa grigia di un'associazione di volontariato e le risposte poco convincenti dell'uomo circa la sua presenza in zona, i carabinieri hanno perquisito la vettura trovando all'interno del bagagliaio diverse tanniche vuote contenenti residui di oli e carburanti mentre all'interno dell'abitacolo sono stati ritrovati strumenti idoni all'accensione del fuoco. E' così scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Lago Negro e sono stati sequestrati i reperti trovati all'interno dell'auto oltre agli abiti indossati al momento del controllo da parte dell'uomo per ulteriori indagini.